La si potrebbe a questo punto leggere davvero come una sfida, sia nei confronti dei residenti che stanchi di quello ormai inequivocabile via vai non smettono di segnalare i movimenti sospetti, sia perché la zona è da mesi, per così dire, sorvegliata speciale. Una sfida sì, perché nonostante il succedersi di arresti di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo la strada provinciale 11 della Val Tartano, proprio sabato in questa zona sono scattate le manette per un altro ragazzo, un giovane tunisino senza fissa dimora. In seguito alle ennesime segnalazioni ricevute, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sondrio e della stazione di Morbegno sabato mattina hanno organizzato un apposito servizio di controllo. Non hanno dovuto attendere molto per vedere uscire dai primi tornanti della provinciale un soggetto coperto da un passamontagna che consegnava una dose di cocaina a un cliente, fermatosi con l'auto giusto il tempo dello scambio. I militari a quel punto, immediatamente dopo la cessione della bustina, hanno rincorso lo spacciatore nella boscaglia, riuscendo a bloccarlo, mentre un suo complice, probabilmente in possesso delle altre dosi pronte per la vendita, si è lanciato in una scarpata, evitando così la cattura. Lo straniero è stato quindi accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione, risultando irregolare sul territorio nazionale e dopo essere stato dichiarato in stato d'arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, è stato tradotto in carcere a Sondrio in attesa dell'udienza di convalida. L'acquirente invece è un quarantenne residente in Bassavalle, è stato segnalato alla prefettura di Sondrio per la detenzione di droga per uso personale, nonché contravvezionato per guida con patente già revocata.